La seduta del 26 febbraio Il Consiglio regionale ha proseguito la discussione sulla modifica della legge sulla tutela e uso del suolo con la nuova definizione di varianti parziali e ha approvato all'unanimità un ordine del giorno a sostegno dell'azienda Seat Pagine Gialle. L'Assemblea ha poi svolto un ampio dibattito a seguito della comunicazione richiesta dal gruppo PD del Presidente della Giunta Roberto Cotta sulle dimissioni dell'Assessore all'Innovazione Massimo Giordano. Il Sigillo della Regione ai Volontari A Palazzo Lascaris il 2 marzo si svolge la cerimonia di consegna del Sigillo della Regione per l'anno 2012. La massima onorificenza della Regione è conferita al coordinamento regionale dell'Associazione Nazionale Vigile del Fuoco Volontari e al Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte in considerazione dell'opera particolarmente meritoria prestata in situazioni emergenziali di particolare rilevanza e gravità. Fotografa Palazzo Lascaris Come vedi Palazzo Lascaris? È il concorso di fotografia su smartphone lanciato dal Consiglio regionale. Partecipare è semplice, basta scattare una foto della sede del Consiglio con Instagram, il network del photosharing e pubblicarla utilizzando l'hashtag cancelletto insta crp. Gli aspiranti fotografi potranno ritirare subito un gadget in regalo all'URP di Via Arsenale 14. A fine anno un gruppo di esperti sceglierà le foto migliori che verranno premiate a Palazzo Lascaris. Storia contemporanea per le scuole Si è conclusa la prima fase del 32esimo progetto di storia contemporanea. Quest'anno hanno inviato i loro elaborati 668 studenti di 47 scuole superiori. I vincitori saranno premiati nell'aula di Palazzo Lascaris e parteciperanno a un viaggio di studio in luoghi significativi come il confine orientale italiano, la risiera di San Sabba e la foiba di Bassovizza, il campo di Mauthausen e il memoriale di Giusen in Austria, il campo di Fossoli nel Modenese, i musei di Carpi e di Gattatico. Mostra a Dronero In occasione della giornata nazionale delle ferrovie dimenticate si inaugura a Dronero in provincia di Cuneo il 1 marzo la mostra dalla carrozza all'aereo. I piemontesi e i mezzi di locomozione nella fotografia dal 1860 al 1960. La rassegna fotografica è realizzata dal Consiglio regionale e l'allestimento nella sala Tripoli in via Mazzini è promossa dall'Associazione Amici della Ferrovia Turistica della Valle Maira in collaborazione con il Comune di Dronero. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori